Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. In questo momento tutti i principali siti di informazione stanno riportando i dati del rapporto Censys 2018 sull'Italia. Due cose da dire prima di discuterne. Prima di tutto, il rapporto Censys contiene già al suo interno delle valutazioni che possono anche risultare molto controversie. Ad esempio, la definizione di sovranismo psichico non è qualcosa di direttamente contenuto nei numeri, ma è già una loro interpretazione. Secondariamente tutte le varie testate, a seconda di quello che è il loro orientamento, stanno riportando quello che vogliono di questo rapporto, perché è un rapporto che si acquista sul sito Censys, non ho idea di quale sia la cifra, stanno riportando quello che vogliono, nell'ordine che vogliono, dando il senso che desiderano a quei numeri e ovviamente le titolazioni che preferiscono per i vari articoli. Tutto questo per dire una cosa che abbiamo già detto molte volte e che dobbiamo sempre tenere presente quando guardiamo a come vengono comunicate le cifre. I numeri, i dati, i fatti, se volete, non parlano da soli. Questa è una cosa fondamentale. C'è sempre la nostra interpretazione di mezzo anche di fronte alle evidenze più auto-evidenti, non c'è auto-evidenza che parli da sé, ha sempre bisogno della nostra voce, della nostra interpretazione e i numeri, i fatti, i dati oggettivi all'interno di un discorso hanno sempre una funzione retorica, che ci piaccia oppure no, e vengono utilizzati per cercare di portare acqua al nostro mulino, per cercare di portare l'interpretazione altrui dove vorremmo che andasse, per cercare in qualche modo di propiziare un certo tipo di azioni. Quindi anche la più evidente delle realtà oggettive, che chiamiamo molto impropriamente così, passa sempre attraverso i nostri segni, i nostri pensieri, le nostre parole, la nostra cultura e i nostri desideri. Come vorremmo che quell'evidenza, che ovviamente richiede a questo punto delle virgolette, ci facesse agire. Questa è la prima cosa da tenere presente quando vediamo sventolate delle statistiche e dei dati, che vengono sempre pertinentizzati e contestualizzati da chi sta parlando e li sta riportando. Detto questo, comunque sia, mi pare, ma anche qui è la mia interpretazione, quindi tenetelo sempre ben presente e aggiungetela ovviamente alle tantissime fonti che bisogna sempre incrociare. Mi pare che ci sia un quadro molto molto disperante sul nostro paese. Credo che chiunque abbia a cuore l'Italia legga con una certa tristezza sulle varie testate, la tristezza rimane un pochino quella, lo stato dell'Italia e del nostro paese in questo rapporto. Di base viene fuori un paese sfiduciato, che è una delle cose più amare, devo dire. Un paese sfiduciato, impaurito, effettivamente incattivito, che si sente poco rappresentato e poco difeso dalla politica, soprattutto per quanto riguarda le classi più deboli e più povere. Un paese che cresce quando cresce in modo molto diseguale, un paese con poca speranza per il futuro, un paese molto sulla difensiva. Non è un bel quadro, non è un quadro di buone prospettive, non è un'Italia che si aspetta buone prospettive, questo è amaro, triste. Come dire, la prendiamo come viene. C'è una parte però sulla quale mi vorrei concentrare maggiormente, che riguarda i giovani e che riguarda l'istruzione. Leggevo che l'Italia è uno dei paesi che investe sull'istruzione meno in assoluto in Europa, credo soltanto Bulgaria, Romania e forse un altro paese investono meno di noi. Questa cosa ha delle ripercussioni, ha un senso purtroppo. Abbandoni universitari siamo messi molto molto male, un tasso di abbandoni precoci dei percorsi di istruzione del 18% dei giovani tra 18 e 24 anni, quasi doppio rispetto a una media europea del 10%. Insomma, laureati italiani fra i 30 e i 34 anni sono il 26% contro una media europea del 39%. E questa è una cosa molto molto triste. C'è sempre, è un'Italia, sono italiani che investono sempre di meno nella loro istruzione. Investire sulla propria istruzione è investire su di sé, è investire sul proprio futuro e sulla propria competitività, sia nel micro della singola persona che nel macro di un paese che ovviamente è un paese, come sappiamo il nostro, molto poco istruito e molto poco competitivo. E queste cose non fanno altro che trovare conferma. Ma la cosa che mi fa gelare il sangue ancora di più, e qui come vi dicevo è evidente che le due cose sono giuste apposte, siamo su Repubblica, sono giuste apposte dal giornale, ma secondo me questa è una giusta posizione che purtroppo ci sta, è il fatto che le speranze dei giovani si stanno poco a poco concentrando altrove. Ed è pur vero. La metà della popolazione italiana è convinta che oggi chiunque possa diventare famoso. Il dato sale al 53,3% fra i giovani fra i 18 e 34. E un terzo ritiene che la popolarità sui social network sia un elemento indispensabile per arrivare alla celebrità. Che cosa stiamo vedendo noi in questo momento? Stiamo vedendo un mondo delle celebrità che si fa una grandissima fatica a legare alla competenza e quindi in qualche modo all'istruzione. L'istruzione è una condizione, quasi una condizione sine qua non per la competenza. Un qualche tipo di istruzione, saper fare qualcosa, avere un qualche tipo di esperienza porta a un qualche tipo di competenza. Ovviamente. Vediamo premiati a livello di mondo dello show business persone alle quali faremo molta fatica ad attribuire delle competenze, se non quelle social appunto. Che certo, per carità, sono competenze anche quelle, questo in realtà non deve essere sottovalutato. E sono effettivamente competenze richieste nel mondo di oggi. Anche questo in realtà è semplicemente il segno dei tempi. Questo non lo vedo necessariamente come negativo, ma vedo molto negativo l'attenzione che passa dall'istruzione al social. Allora qui c'è stato un equivoco. Qui c'è un problema di un paese che si sta suicidando, che sta perdendo il proprio futuro per mancanza d'amor proprio, dal singolo che decide di non investire sulla propria istruzione al paese in generale che non investe sull'istruzione. Questo è un paese che non si vuole bene, ma davvero. Dicevamo il discorso delle competenze, ma poi c'è il discorso della politica. E qui davvero quali sono i modelli vincenti che la politica ci offre? Sono modelli ai quali faremo molta fatica, e sto usando un eufemismo di amara ironia, ad attribuire delle competenze, se non appunto l'essere molto molto forti sui social network. I politici di maggior successo oggi non sono politici che brillano per le loro competenze, per quanto sono istruiti, ma per quanto sono forti da un punto di vista della comunicazione social. Essere forti da un punto di vista della comunicazione sui social network e sui social media non è un male, non è una cosa negativa. E in fondo è richiesto a tutti oggi, anche alle persone competenti, tanto di più, se vogliono promuovere la propria attività, se vogliono anche in qualche modo fare divulgazione delle proprie competenze, sapersi muovere su internet è giusto e sacrosanto che sia richiesto. Ma l'idea presso i giovani che sapersi muovere online, idea che viene promossa non soltanto dallo show business, ma anche e soprattutto dalla politica, l'idea che sapersi muovere online sia sostitutivo dell'essere competenti e dell'essere istruiti, testimonia di un paese che si sta suicidando, che sta rinunciando ad avere un futuro, è drammatico. Soprattutto perché, mettendomi nei panni dei giovani che abbandonano gli studi pensando che sui social otterranno qualcosa, la generazione pionieristica di coloro che hanno avuto successo su internet, pur essendo dei ragazzini totalmente incompetenti, ma avevano un vantaggio competitivo perché erano una generazione pionieristica. Quel vantaggio competitivo lì non esiste più. Quella generazione è irripetibile. Questo è il punto di quello che voglio dire. Quindi in tutto questo c'è anche l'illusione di un giovane che non sa nulla, non si è curato di sapere nulla e pensa di poter fare come quelli che dieci anni fa hanno trionfato online, ma solo perché erano pochissimi. Oggi l'online è stra-turbo-ultra-saturo e chi non ha della ciccia, chi non ha qualcosa a livello di competenze da portare su internet, si affida davvero totalmente al caso. Tanto meno cose tu sai portando la tua presenza su internet, tanto più casuale e quindi altissimamente improbabile sarà la tua possibilità di avere o non avere successo. E su questa tragedia investe, cioè non investe, con i suoi mancati investimenti sull'istruzione, investe la politica che è una politica di incompetenti per incompetenti, che sono legione in Italia, come ben sappiamo, di analfabeti per analfabeti. Il nostro è uno dei paesi più analfabeti d'Europa. Per questa politica e per questa situazione l'istruzione, e i numeri in questo caso mi sembra, fate voi, mi sembra che lo dicano, l'istruzione è il nemico. Il nemico numero uno dell'Italia in questo momento è l'istruzione. Questo significa che il nemico numero uno per l'Italia in questo momento è un buon futuro per l'Italia. Abbiamo una contraddizione, abbiamo un paese che si sta suicidando, decidendo di essere non istruito, decidendo di essere un paese di incompetenti, decidendo di essere un paese non competitivo. Questo viene fuori davvero dagli abbandoni universitari, dal basso tasso di istruzione, da questa speranza su chiunque può diventare famoso. Quando i giovani credono e hanno ragione di credervi perché lo vedono non soltanto nello show business ma nella politica tutti i giorni, che non serve competenza per essere famosi, qual è il nostro futuro ragazzuoli? Dove stiamo andando come paese? Ai ai ai. Quindi sì, io credo che questo rapporto sia disperante, credo che la situazione italiana sia disperante e credo che quando la politica ha interesse nel disinteressarsi dell'istruzione e quando la politica vede nel sapere un nemico e nell'ignoranza il vero e più efficace volano del consenso, a rimetterci è il nostro futuro.